Tiremo le somme di questa serata, di questo evento Sport Sotto le Stelle. Giulio Valente, sei soddisfatto di risultati di questa serata? E vorresti replicare l'anno 21? Sono molto soddisfatto di questa serata perché è una serata bellissima, è filato tutto liscio, come suol dire. Il tempo è stato clemente con noi, direi anche fin troppo, una serata splendida. Per quanto riguarda l'esibizione sono molto soddisfatto dei ragazzi che hanno dato il massimo, qualcuno si è emozionato giustamente perché avere di fronte tanto pubblico non è certamente facile, anche se le cose si ripetono quotidianamente in palestra, ma davanti a un pubblico così affollato e esigente ci si imbarazza un pochettino, di conseguenza un po' di panico c'è sempre, qualcosina certamente non va per il suo verso. Di conseguenza tutto ok, è chiaro che quello che dico io tra gli spettatori non c'è neanche un pagante, di conseguenza va tutto bene, se dobbiamo dare riscontro al Dio denaro, è chiaro che le interfezioni non vengono perdonate, di conseguenza sono molto soddisfatto. Per quanto riguarda la replica, come ho detto prima, innanzi le difficoteche economiche purtroppo con tipi che corrono ci sono, è inutile nascondersi dietro un filo d'erba, di conseguenza il nostro impegno ce lo mettiamo, speriamo di trovare delle risorse economiche perché come ho detto prima, ne disponso che anche loro poverini non possono giustamente aiutarci perché anche loro incontrano le difficoltà. L'amministrazione comunale secondo me dovrebbe stare un po' più attento e aiutare queste associazioni che si impegnano a allettare le serate dei bicellesi con questa bellissima manifestazione. Sicuramente sarei io il primo a essere dispiaciuto per una mancanza di presenza e un'esibizione così importante, dato che i bicellesi per loro e anche per noi è un appuntamento importantissimo. Ci auguriamo che trovare delle nuove risorse e soprattutto degli stimoli perché quando vengono a pencare gli stimoli e le risorse, addio! Perché è fondamentale lo sport per un bambino nella fase della crescita e in particolare la disciplina del Judo? Il Judo è importantissimo ed è stato apprezzato in molti paesi, tra cui i primi insieme alla Francia dove il Judo è uno sport di livello nazionale e nelle scuole elementari, dalla prima alla quinta elementare è obbligatorio fare Judo. Per la seconda scelta le bimbe hanno la facoltà di fare karate ma il Judo è importantissimo perché è uno sport bilaterale, allarga le mappe elastiche mentali migliora i mirror che sono i neuroni a specchio e soprattutto è uno sport dove è studiato tutto nei mini in particolare per non farsi male in primis anche perché il Judo? Perché si pratica sul tatami che è una materassina di gomma e se si cade non ci si fa male, giocando a basket, a lavoro o a qualsiasi altro sport quando si cade sul duro è duro e ci si fa male Allora, giustamente, le scuole intelligenti, facciamo fare il Fudo in modo tale che così ci pariamo da questi inconvenienti Va bene, ti ringrazio Prego, alla prossima